Bentornati amici di videoripetizioni In questa videoripetizione noi vogliamo illustrarvi come importare un progetto WAR quindi una dynamic web project zippata all'interno del vostro eclipsing all'interno del vostro ambiente di sviluppo Questo perché? Perché ci sono state diverse richieste in particolare da Andrea e Alberto iscritti al nostro nuovo corso di prodotti già web application in 9 giorni che ci hanno chiesto come importare i sorgenti di questo corso Allora io vi faccio vedere passo passo facendo il login dal nostro sito perché anche io sono registrato a questo corso Clicco su login e vi faccio vedere passo passo come scaricare come scaricare il prodotto e i sorgenti delle varie lezioni e installarvele sul vostro ambiente di eclipse quindi inserisco username e password dal login del sito ricordiamo che la login del sito alla sezione privata la possono ottenere tutti la registrazione se avete l'account per il corso java web application in 9 giorni nella voce menu come adesso vedrete vi comparirà nel menu anche il link al corso java web application in 9 giorni allora scriviamo username e password facciamo accedi e una volta entrati una volta entrati noi come vedete ci compare il link diretto al corso java web application clicchiamo sul link del corso e come vedete accediamo alla pagina vera e propria del nostro corso questo naturalmente è un menu personalizzato per chi ha l'account di questo corso come vedete sulla vostra destra potrete scaricare tranquillamente i sorgenti questi sorgenti sono tutti dei file war facilmente caricabili sul vostro ambiente di sviluppo eclipse e in particolare sono dei file war che comprendono anche i sorgenti java in genere nelle esportazioni di file war esistono file war senza sorgenti e file war compresi di sorgente scarichiamo ad esempio il file war della lezione 3 clicchiamo come vedete il nostro file war è stato appena adesso scaricato scaricato e andiamo sul nostro eclipse supponiamo che noi ce lo vogliamo importare sul nostro eclipse facciamo file import war file come vedete eclipse ci dà tutte le possibilità delle tipologie di progetto caricabili nel nostro sistema noi scegliamo war file perché stiamo caricando una dynamic web application facciamo next con il browser selezioniamo sulla cartella download dove abbiamo scaricato adesso il nostro corso quindi andiamo su download myproject.work che è il corso che abbiamo diciamo la lezione che abbiamo appena adesso scaricato facciamo apri e facciamo finish bene come vedete il nostro progetto di esempio associato alla nostra lezione 3 è stato tranquillamente importato io detto questo vi saluto vi ricordo appunto come vi ho già fatto vedere che noi ci teniamo molto a mostrarvi questo corso perché è un corso che vi illustrerà in modo veloce e pratico come imparare uno dei mestieri più richiesti al momento che è quello di sviluppatore java e vi invito sempre a visitare il nostro sito www.videoripetizioni.com e a visitare il nostro canale youtube videoripetizioni un saluto www.videoripetizioni.com 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 Per ho